Una cinquantina di famiglie clusonesi ha sottoscritto una lettera inviata nei giorni scorsi al prefetto e al questore di Bergamo, ai comandanti delle compagnie carabinieri di Bergamo e Clusone e al sindaco di Clusone, per segnalare alcune gravi problematiche che riguardano la cittadina Baradella. Nella lettera si fa riferimento a situazioni segnalate ormai troppe volte senza ricevere alcuna risposta. Tra queste i numerosissimi furti in abitazioni private, la presenza di ubriachi, anche giovanissimi, che urinano, urlano e commettono atti vandalici come passatempo, auto che scorazzano ad alta velocità per il paese, telecamere di sorveglianza inadeguate che non riprendono dati utili per scoprire i responsabili. Si fa riferimento anche al fatto avvenuto a Rovetta, dove un adulto avrebbe cercato di adescare una ragazzina che si stava recando a scuola. Cosa viene fatto o è stato fatto per contrastare tale stato di cose? Si chiedono i firmatari. Nel giro di pochi anni l'altopiano di Clusone, e Clusone stessa, da tranquilla oasi di pace e deneurobie, è diventato non più attrazione turistica, bensì meta di ladri, di extracomunitari illegali e cittadini comunitari anche privi di mezzi di sostentamento. Non siamo razzisti e non vogliamo criminalizzarli per quello che accade in paese, ma ci si chiede come mantengano le proprie famiglie in questo periodo di crisi. Sono forse collegati all'aumento dei furti nelle abitazioni? Ci rendiamo conto della situazione e delle difficoltà economiche, conclude la lettera, ma chiediamo solo i nostri diritti alla sicurezza, a vivere in tranquillità e che i nostri figli possano crescere in un clima sereno e non terrorizzati dalle nostre paure.